Il re Salman sostituisce il principe ereditario con il figlio Mohammed bin Salman, che diventerà vice primo ministro e manterrà anche il ruolo attuale di ministro della difesa. Scalzerà dal trono il cugino Mohammed bin Nayef, a cui è stato tolto anche il ruolo di ministro degli interni. Quest'ultimo andrà al fratello Abdulaziz bin Saud bin Nayef, assicurando quindi in qualche modo al ramo Nayef il controllo dei pozzi petroliferi a Est. Spostamenti interni che assomigliano ad un colpo di Stato e che lanciano un chiaro messaggio. Il futuro re sarà colui che ha rifiutato qualsiasi dialogo con l'Iran, che insta alla regia del blocco contro il Qatar, nonché il principale responsabile della catastrofe umanitaria nello Yemen. Su di lui alleggiano anche dubbi di finanziamenti e movimenti jihadisti vicini ai fratelli musulmani. Il giovane bin Salman è inoltre la guida del Consiglio per lo sviluppo agli affari economici e il primo membro della famiglia reale ad avere potere diretto su Aramco, la compagnia petrolifera di Stato. Cresce la tensione in Siria tra la coalizione internazionale e gli alleati di Damasco. Mentre Mosca attende ancora spiegazioni per l'abbattimento del Su-22 siriano da parte di Washington, l'aviazione statunitense ha battuto nei pressi di Al-Tanf un drone siriano di produzione iraniana. Avrebbe rappresentato una minaccia per le forze della coalizione anti-Daesh, la cui presenza in una zona dove ormai di Daesh non c'è ombra dà adito a dubbi. E in ogni caso, per Mosca, il potenziamento delle forze statunitensi nella Siria meridionale è comunque illegale. Eppure, gli americani si sentono in diritto di avvertire che non permetteranno nessun avvicinamento dell'aviazione siriana. I rapporti fra Russi e Stati Uniti si fanno dunque sempre più tesi, con effetti visibili che non si limitano al conflitto siriano. Un caccia russo sarebbe passato un metro e mezzo di distanza da un aereo da ricognizione americano in volo sopra il Mar Baltico. A comunicarlo è Fox News, che cita due anonimi funzionari statunitensi. Per la difesa russa, invece, il velivolo americano avrebbe effettuato una manovra provocatoria. Nell'ultima settimana sarebbero stati almeno 15 i voli effettuati dagli aerei da ricognizione americani nelle immediate vicinanze dei confini russi. Un caccia della Nato ha tentato di avvicinarsi all'aereo del ministro della difesa russo Sergei Shoigu. Diretto a Kaliningrad. I caccia dell'Alleanza Atlantica stavano accompagnando l'aereo russo in volo sopra il Mar Baltico, quando uno di loro ha effettuato una manovra di avvicinamento che Mosca ha già definito provocatoria. Immediatamente un Su-27 russo si è frapposto tra i due velivoli, mostrando i missili. Dopodiché gli F-16 della Nato si sono allontanati. L'Unione Europea proroga di un anno le sanzioni alla Russia legate alla questione Crimea. Con lo stesso pretesto, mentre il pacchetto sanzionatorio contro Russia e Iran approvato la settimana scorsa dal Senato statunitense e fermo alla Camera per presunta incostituzionalità, Washington vara nuove misure restrittive individuali. Tra le vittime del decreto, il viceministro allo sviluppo economico della Russia, Sergei Nazarov, a capo della Commissione per gli aiuti umanitari a Donetsk e a Lugansk. Per il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, Washington è in preda a un'ossessione russofoba. Della stessa opinione anche Vladimir Putin. Se non ci fosse stata la Crimea, si sarebbero inventati qualcos'altro per indebolire la Russia. L'MSCI, uno dei più importanti provider finanziari al mondo, inserirà nei suoi indici 222 azioni della Borsa di Shanghai e di Shenzhen. Precisamente i titoli verranno inseriti nell'Emerging Market Index, che ha una capitalizzazione complessiva di 1.600 miliardi di dollari. Sarà così più facile per gli investitori internazionali entrare nell'immenso mercato finanziario cinese ed in particolare nella Borsa di Shanghai, che con i suoi 7.500 miliardi di capitalizzazione è la terza al mondo per importanza. Goldman Sachs prevede che con questa apertura, nei prossimi 5 anni, possono fluire in Cina capitali esteri per un valore di 210 miliardi di dollari. Dietro a questa iniziativa squisitamente finanziaria, si intravede però un elemento di natura geopolitica. L'apertura dei mercati finanziari cinesi agli investitori internazionali è essenziale per fare dello yuan una moneta di ancoraggio, detenuta nelle riserve valutarie dei paesi di tutto il mondo. Un mondo che con un assetto di tipo multipolare passa anche attraverso questo tipo di decisioni. I paesi BRICS verso un nuovo decennio di collaborazioni reciprocamente vantaggiose. In soli 10 anni, il volume totale dell'economia dei BRICS è passato dal 12 al 23% di quella globale, mentre il contributo dei BRICS alla crescita economica mondiale ha superato il 50%. Oggi, Pechino propone BRICS Plus, mirando a rafforzare la cooperazione con altri paesi emergenti. La Cina, che nel 2017 detiene la presidenza annuale del gruppo, si dice pronta a collaborare con tutte le parti per contribuire alla stabilità e alla prosperità mondiale, nonché al sano sviluppo di un asset multipolare. Nessuna alleanza politica o militare invista, ma la volontà di lavorare assieme agli altri paesi per creare una comunità di futuro condiviso per l'umanità. Si ripete il Grindedrop, la mattanza annuale dei delfini balena nelle isole Faroe, Danimarca. La macabra tradizione prevede l'accerchiamento e l'uccisione delle balene, che giungono a centinaia verso le spiagge durante la migrazione. Il governo danese ribadisce la legalità della tradizione, sostenendo che le balene non sarebbero in via di estinzione, ma potrebbero diventarlo a causa della caccia incontrollata, in barba alle normative dell'Unione Europea, da cui peraltro la Danimarca riceve sussidi. Normativi a parte è la stessa crudeltà della pratica che viene messa in discussione dalle associazioni animaliste. Gli animali emettono gemiti strazianti e le acque si tingono di rosso sotto gli occhi della popolazione locale, bambini inclusi. Qualche anno fa, gli attivisti della campagna Sea Shepherd sono stati addirittura arrestati nel tentativo di soccorrere gli animali. Ma le organizzazioni animaliste non si fermano e chiedono a gran voce la fine della mattanza. Grazie. 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 Grazie.